Come stiamo spingendo la risorsa? Come stiamo spingendo la raccolta della carta, del vetro, della plastica, dell'umido, ma i rifiuti elettrici e elettronici, soprattutto quelli piccoli, finiscono spesso nel posto sbagliato. Li buttiamo nel sacco nero dalla spazzatura indifferenziata invece che raccoglierli separatamente e portarli nei posti che la legge prevede siano organizzati proprio per questo. Le isole ecologiche dei nostri comuni e i negozi che vendono apparecchiature elettriche e elettroniche che sono obbligati a ritirare le apparecchiature con due modalità, uno contro uno, cioè ritirare il vecchio RAE quando compriamo un'apparecchiatura equivalente, e questo vale per qualunque tipo di apparecchiatura e per qualunque negoziante, oppure con modalità uno contro zero abbiamo la possibilità di lasciare gratuitamente i nostri piccoli RAE fino a 25 cm ai grandi negozi specializzati anche quando non compriamo nulla. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nell'acronimo RAE si racchiudono tutti i componenti di cui ci si vuole disfare in quanto guasti, inutilizzati ed obsoleti e dunque destinati all'abbandono, ma ancora l'80% dei cittadini napoletani non utilizza questo servizio di raccolta differenziata, un dato superiore alla media italiana che si attesta sul 61%. In seguito allo studio del Consorzio del Sistema Elion che gestisce i RAE e la Società di Studi e Ricerche Ipsos, presentato stamattina a Palazzo San Giacomo, parte un progetto di raccolta straordinaria dei rifiuti elettrici ed elettronici in alcuni istituti scolastici napoletani, con l'accordo firmato con Asia a termine della tavola rotonda, riciclare i RAE è una bella storia. Nelle scuole devono passare dei messaggi che devono essere veicolati in modo chiaro e anche efficaci dal punto di vista scientifico, quindi i ragazzi poi sono coloro che prenderanno in mano questi processi, li porteranno anche all'interno delle loro famiglie e faranno anche un lavoro educativo con i loro genitori e con i loro parenti. I giovani oggi fanno uso di tanti apparecchi elettronici e di fatto non c'è una comunicazione corretta nel dove conferire questi rifiuti, quindi per noi la comunicazione parte appunto dei cittadini che attraverso appunto le scuole e quelli che sono i canali istituzionali cercheremo di dedicare delle raccolte puntuali per la raccolta dei RAE. Lo smaltimento dei rifiuti elettronici è diventato una delle grandi emergenze della contemporaneità, è una grande risorsa ma è anche un grande problema ambientale. Partiamo dalle scuole perché chi maneggia più cellulari, videogiochi sono propri ragazzi e quindi questa è l'occasione per spiegare loro che questi strumenti poi devono essere smaltiti e vanno smaltiti in maniera regolare.